proveniente dalla destra, Tappi colpiva di sinistro dal limite, di precisione ed infilava imparabilmente Torchia nel set e ento pareggiava. Pallone proveniente da calcio d'angolo, la difesa non riusciva a liberare di forza e strano che nella circostanza si era portato in avanti per dar manforti ai suoi, calciava alle spalle di Zazzaro. Era l'1-1 con la Salernitana inutilmente...